In questo video vedremo le modalità di ricerca e i filtri presenti in Mlol. È possibile fare una ricerca generica per parola chiave selezionando in alto il bottone cerca. Inserisco dei termini di ricerca. Cerco ad esempio Stato sociale e lancio la ricerca. Troviamo un ebook Mlol e 13 risorse open. Le seleziono. Si tratta di 12 ebook e un video. Torno alla pagina iniziale e selezionando Esplora per vedere un'altra modalità di ricerca. Dal menu a sinistra seleziono Tipologie e scelgo Ebook. Possiamo affinare la ricerca sempre dal menu a sinistra selezionando Altri filtri ebook e scegliendo solo i titoli disponibili ora o solo i libri italiani accessibili. Poi scegliamo l'argomento. Seleziono il menu Argomenti e scelgo ad esempio Economia, Finanza, Imprenditoria e Management. Lo seleziono. Possiamo scegliere anche un sotto argomento, ad esempio Finanza e Contabilità. Così troviamo 34 ebook Mlol più 60 ebook Free.